Un gemellaggio nel segno delle statue del Cristo Redentore è quello che è stato siglato nel pomeriggio di martedì tra il comune di Maratea e la mitra Arcivescovile di Rio de Janeiro, proprietaria dell'Effigie del Signore più famosa al mondo. Dopo un lungo percorso e una serie di conversazioni durate mesi tra il sindaco Stoppelli, il console d'Italia in Brasile e il rettore del santuario, le due storiche statue distanti migliaia di chilometri ma da sempre unite attraverso un sottile filo rosso sono da ieri più vicine. Il Cristo di Maratea, dal volto bambino e dalla figura angelica, alto 21 metri, è stato costruito nel 1965 sul progetto dell'ingegnere Bruno Innocenti a spese del conte Stefano Rivetti che poi lo donò al comune. Quello di Rio invece rappresenta un Redentore nel pieno dei suoi anni, costruito in stile Art Deco nel 1931 ed è alto 30 metri più 8 di piedistallo. Quest'anno, in occasione del novantesimo anniversario della statua brasiliana, Maratea entrerà nel pieno dei festeggiamenti. Il gemellaggio infatti prevede innanzitutto che ad ottobre, quando dovrebbero avere luogo le celebrazioni a Rio, Maratea sia presente con spazi e momenti dedicati e che in estate si svolgano invece sul territorio lucano eventi celebrativi. Poi prevede anche di condividere le buone pratiche relative alla manutenzione e alla valorizzazione delle due statue e esperienze culturali e religiose per incentivare il turismo e il pellegrinaggio alle due mete. Inoltre, nei pressi di entrambe le statue, verrà apposta una targa commemorativa del gemellaggio. Un accordo che significa innanzitutto un accordo di fede e poi un accordo di amicizia. Maratea e Rio hanno in comune queste due statue del Cristo Redentore. Maratea è una città religiosa, una città che ha voluto col Brasile iniziare questo collegamento, perché nel 1900 tantissimi cittadini di Maratea sono emigrati in Brasile e quindi devono avere nella loro città un forte legame. E noi vogliamo costruire un ponte tra Maratea e il Brasile per consentire a questi nostri concittadini di sentire la vicinanza di questa nostra terra.